I giovani ci sollecitano a rendere al mondo una testimonianza coerente della nostra fede in Dio. Lo scrive Papa Francesco nel discorso consegnato ai Viscovi della Conferenza Episcopale di Corea ricevuti in occasione della loro visita ad Elimina Apostolorum. Ricordando con gioia e commozione il viaggio apostolico compiuto nell'agosto del 2014, il Pontefice non ha mancato di tratteggiare le sfide che attendono la Chiesa del Paese Asiatico. Nel solco di una lunga e gloriosa tradizione, i discepoli di Cristo sono chiamati a essere fedeli testimoni del Figlio di Dio, a servirlo soprattutto tra quanti la società tende invece a scartare. Nonostante i progressi della tecnologia e della comunicazione, oggi le persone tendono a essere sempre più sole, di cui l'urgenza a fare delle diocesi, delle parrocchie, delle scuole e dei centri di apostolato, dei luoghi di incontro, incontro con il Signore che ci insegna come amare e che apre i nostri occhi sulla dignità di ogni persona. Grazie a tutti.